le note dio happy day giustamente per sottolineare la bellezza di un incontro del genere ma anche per dire felice giorno in cui molte, molti di voi, molti di queste famiglie sceglieranno la musica come parte del percorso di crescita e di apprendimento dei vostri figli, siamo qua per voi grazie a tutti 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 grazie a tutti